ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video se mi trovo in questa posizione se ci troviamo in questa posizione è perché tra poco vedrete un salotto e da tanto che non facciamo salotti però finalmente ci siamo trovati tutti insieme quindi partiamo abbiamo sempre la nostra bellissima coppa boh estrai tu stavolta cioè non ti giri neanche più per far estrarre qualcuno autonomo cantante solista ma io infatti volevo estrarre poi me ne vado a casa però almeno qualcosa avevo fatto no a parte gli scherzi è vero dai chi è che va io vado vabbè ha deciso da solo no si è un tema allora raga questa questa domanda qua che è uscita per caso tra l'altro ma tra l'altro ricordiamo ai nostri amici telespettatori e delle spettatroci che possono farci e raga vi diciamo che noi ovviamente estraiamo fra un po di domande che ci vengono fatte o in privato sotto i commenti vi invitiamo quindi a scriverci nei commenti uno spunto per un argomento da affrontare in quattro se volete vederci scannare su un argomento specifico riguardante la musica scrivetelo qua sotto potete anche farci quelle domande che ci fanno proprio litigare massacrare lo scopo del salotto e facci sciogliere tipo perché alle arriva sempre in ritardo chissà perché perché ho tanti impegni allora questa raga tra le domande che potevamo pescare e forse quella più aderente all'attualità perché appena uscito posti il nostro ultimo singolo e questa domanda recita tra tutte le cose che vi la domanda che recita il bigliettino recita tra tutte le cose che bisogna fare per l'uscita di un singolo cosa ti piace di più e cosa meno ma dato che tu hai deciso di estrarre lui ha deciso di fare la presentazione io decido che arri inizia ok ok tanto io dico due cose per me allora cosa mi piace fare di più per l'uscita è questa c'è proprio fare di più allora una cosa bella che mi piace fare quando esce un nuovo pezzo degli psycho killer e occuparmi insieme a qualcun altro diciamo che noi da tre singoli a questa parte quando li abbiamo fatti uscire per c'è una parte di promozione è quella di fare un video reaction appunto in cui facciamo ascoltare il pezzo agli sconosciuti che il pezzo che uscirà lo facciamo ascoltare agli sconosciuti vediamo le loro reazioni e cerchiamo di capire se piace o meno e quella per me è la parte più bella perché ti dà la possibilità di capire subito se il pezzo piace comunque avere subito uno scambio con persone che non conosci è bello si tra l'altro era il primo video reaction che abbiamo fatto mi pare fossimo io e te eravamo molto in crisi perché avevo detto cazzo qua dove andare in mezzo alla gente faremo delle palle sì in più fare ascoltare comunque un pezzo nuovo a della gente che non sai minimamente chi sia era una bella sfida effettivamente poi è divertente meno male che io mi occupo solo di filmare solitamente però l'ultimo e vi consiglio di andarlo a vedere ve lo lasciamo qua ultimo video reaction è entrato proprio a gamba tesa a andre ed è stato il protagonista neanche fiorello presentatore mancato comunque questa è una cosa a cui non avevo pensato prima che abbiamo fatto un po di brainstorming non avevo pensato a questa cosa degli anicoli la cosa che mi piace di meno è pensare alle didascalie dei post che tra l'altro l'ultima volta hai fatto tu cioè io mi ricordo proprio che lui fatto è verità girato il computer fa questo compito sì però non mi piace perché ho deciso che è compito di ervi perché noi siamo molto democratici facciamo un'opera di bene al mondo perché non sa ancora scrivere gli stiamo insegnando e lo facciamo con i post quindi se anche voi come noi su volete supportare andate sui nostri post e mettete il like è andrea io sono curioso di sapere la tua allora per questo singolo qua effettivamente io ho partecipato alle foto ho fatto la presenza e ho fatto il presentatore per le video di action e posso ritenermi fortunato perché effettivamente era una parte più divertente posso dire la mia riguardo l'esperienza che sto facendo col mio progetto parallelo personale che devo arrangiarmi su tutto effettivamente tra tutte le cose da fare per l'uscita di un singolo la cosa che mi piace meno sia il piano editoriale quindi starla a romperti le balle a pensare a cosa devi pubblicare perché pubblicarlo mantenere la costanza cosa scrivere per fare storytelling che è una sbatta immensa invece la cosa che mi piace molto è curare la parte grafica ho notato di cercare di pensare a come creare una copertina che sia sintetica nel senso che spieghi il concetto della canzone che però abbia anche un po di del tuo stilisticamente senza per forza fare foto personale ad esempio hai avuto da fare proprio copertine chiamiamole generiche è comunque comunque un'attività anche quella artistica che ci metti del tuo anche in quello quindi anche per quello che penso mi piaccia tra tutte le cose e poi vabbè soddisfazione quando carichi il pezzo sul distributore vedi il fatto che stai mettendo qualcosa di tuo a livello planetario invece a me quella roba lì mette un sacco d'ansia perché per chi non lo sapesse breve parentesi una band o un musicista come fa ad arrivare il pezzo su spotify esatto in realtà non carica il pezzo su spotify su instagram eccetera si carica il pezzo su un sito che si chiama sito aggregatore o distributore e si decide la data di uscita e questo sito distribuirà il pezzo a tutte le piattaforme tutti i social eccetera quella quella è una cosa di cui mi occupo io ed è la cosa che mi piace di meno ma più che altro cioè per un semplice motivo perché ho paura e ho veramente l'ansia fino a quando non esce il pezzo di aver caricato il file sbagliato ma comunque abbiamo paura a tutti e cioè chissà che pezzo ha messo su ale magari magari e l'audio e l'audio del magari è il mix senza il mastering è quello che ti piace di più quello che mi piace di più e fare le foto cioè ma non le foto di copertina proprio le foto promozionali a noi stessi perché ovviamente reale un modello alla fine ovviamente quando si prepara l'uscita di un prodotto che una canzone appunto ci sono tante cose collaterali da curare e a livello di immagine ci sono i post c'è l'immagine di copertina ma c'è anche tutto il nuovo corredo di foto di band quindi ogni volta si fa un set fotografico anzi vi lasciamo il video qua di quando di quella giornata in montagna in cui abbiamo sia scattato la foto di copertina di posti ma abbiamo anche fatto le foto del corredo nostro per il press kit e tutta la promozione quella roba lì mi piace tanto devo mettere poi sarà perché magari sono un po egocentrico mi piace essere al centro dell'attenzione però fa sempre questa faccia da foto ditegli che deve togliere la faccia da foto Ronco vabbè se proprio lui se proprio vuoi dire la tua eh vabbè dai premessa noi ovviamente stiamo diciamo gestendo quasi tutto il progetto in do it yourself quindi tutto quello che vedete a parte diciamo la parte di registrazione lo facciamo da soli vuol dire che ci muoviamo ehm in direzione di persone che ci possono aiutare a fare cose specifiche ad esempio è chiaro che la copertina e le foto se devono essere fatte ad un certo livello non ce le facciamo da soli e i video a volte li facciamo da soli a volte abbiamo coinvolto delle altre persone quello che mi piace particolarmente è vedere come le persone esterne soprattutto che si occupano di fotografie video leggono la nostra il nostro pezzo e lo trasformano in immagine perché quella cosa ti dà sempre degli spunti interessanti su una cosa che tu senti tua ma magari da un punto di vista che non hai mai visto e secondo me è molto figa questa cosa la cosa che mi piace di meno in realtà giusto per finire il video in allegria la cosa che mi piace di meno in realtà è fare la promo proprio direttamente sui social in realtà è un pezzo del mio lavoro vero nel senso che io mi occupo di quello nella vita ovviamente nella tipologia di progetto in cui siamo calati trovo molto più interessante fare altre cose rispetto a quello tipo suonare e si riesce a fare poco se devi pensare sì esatto è cosa difficile di arrangiarsi in tutto tutti gli aspetti diciamo gestionari è che cioè rischi veramente di non toccare lo strumento a momenti per un mese intero ma anche due ma anche due va bene ragazzi il video finisce qua il nostro salotto finisce qua e mi raccomando se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo giovedì prossimo ciao